Umberto Bossi si è dimesso, chi sbaglia paga qualunque sia il cognome che eventualmente porti, ha detto il senatore. La decisione durante il Consiglio federale della Lega ha riunito per nominare il sostituto del tesoriere, Francesco Belsito, dimissionario dopo l'avvio delle inchieste sull'utilizzo improprio dei rimborsi elettorali da parte del Carroccio. Dimissioni irrevocabili da parte del numero 1 Padano, al posto di Bossi un triunvirato composto da Roberto Calderoli, Roberto Maroni e Manuela Dallago, una reggenza fino al congresso d'autunno. Il Consiglio federale ha quindi nominato Stefano Stefani, nuovo amministratore. Mi dimetto per il bene del movimento, dei militanti, la priorità è il bene della Lega e continuare la battaglia, ha detto Bossi al Consiglio federale, secondo quanto ha riferito su Radio Padania Matteo Salvini al termine della riunione. Bossi sarebbe stato quindi nominato presidente della Lega, riferisce ancora Salvini, da un Consiglio federale ha detto commosso. Nessuno ha chiesto le dimissioni di Bossi, lui è arrivato già convinto con una scelta decisa, ha concluso e sofferta. La decisione del leader segue le nuove rivelazioni circa quanto sarebbe stato accertato nelle tre procure che indagano sui conti della Lega. La magistratura di Napoli, per esempio, ha scoperto nella cassaforte di Belsito, sequestrata ieri a Montecitorio, una cartella con l'intestazione De Femili. L'ipotesi degli investigatori è che i documenti siano relativi alle elargizioni ai familiari di Bossi, gli atti sono all'esame. Trovato anche un carnet di assegni che reca la scritta Umberto Bossi. Il libretto sarebbe stato rilasciato dalla sede genovese, la Banca Aletti, dove sono versati i contributi elettorali del carroccio. Gli inquirenti ritengono che dal conto, gestito dal tesoriere finito sotto inchiesta, provengano le somme destinate a spese personali della famiglia di Bossi. Intanto oggi il senatur, nel pieno della tempesta, furibondo Agemonio, ha invitato i suoi a picchiare un giornalista della Sette. No, no, neanche noi. Senatore, grazie. Senta, ma i soldi dove sono finiti, senatore? E io vengo, non mi fanno entrare. Se i suoi mi fanno passare, io ne vengo a parlare. Grazie.